Un saluto a tutti gli amici di Gadgetland.it Oggi siamo con un piccolo gadget davvero molto interessante Che si chiama Spectre Hologram Cosa serve questo piccolo gadget a forma di piramide E praticamente solo fatto di plastica Serve per poter realizzare o meglio visualizzare Con ogni smartphone, quindi con qualunque tipo di smartphone Hologrammi in 3D Per visualizzare questi hologrammi in 3D Non c'è bisogno di nessuna app Ma bisogna andare su YouTube e scrivere solamente Spectre Hologram Videos E così otterrete questo risultato Un saluto a tutti i nostri spettatori 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 Grazie a tutti.